Parliamo di Abigail, film del 2024, in arrivo al cinema il 16 maggio. Insomma, l'ho visto in anteprima a stampa, in lingua originale, ed è un film che ho un po' snobbato, perché appunto mi sembrava... diciamo che l'ho giudicato un po' troppo in modo superficiale, quindi non mi sono neanche troppo soffermato su chi erano i registi. Invece poi, quando sono arrivato lì, ho iniziato a mettere insieme i pezzi. Anche questo trailer che è stato proposto, che ha un ruolo importante, è molto spoiler, cioè ha tantissima trama dentro, e quindi questo un po' scoraggia anche un po' la... forse la curiosità per i film. Allora, mi sento di fare un... ammettere un errore di valutazione, nel senso che questo film non è affatto male. È incredibile che io mi trovi qua a dire questo. Ovviamente va contestualizzato nel suo genere di film, nel suo target, e per farlo forse bisognerebbe guardare appunto il curriculum dei due registi, che sono Tyler Gillet e Matt Bettinelli-Holpin, che sono i registi di film, cominciando, diciamo, dal loro passato, come Finché morte non ci separi, Southbound, Scream 5, Scream 6. Finché morte non ci separi è un buon film. Scream 5 e Scream 6 sono film che comunque sono riusciti in qualche maniera a sfangarla, diciamo, perché comunque il confronto con Kraven e con una saga così importante non era proprio una cosa semplice. Diciamo che loro ne sono usciti bene, altri registi su altri franchise non ne sono usciti così bene. Quindi in realtà abbiamo due registi intelligenti, che sanno il fatto loro. Abbiamo un cast piuttosto importante, nel senso che c'è Melissa Barrera, che ha partecipato anche agli ultimi Scream. c'è Dan Stevens, che è bravissimo. C'è la protagonista appunto cattiva, insomma, Alicia Weir, che fa Abigail, che è molto brava. Poi abbiamo Kevin Durant e Catherine Newton, che è la protagonista di Freaky. E poi infine c'è Angus Cloud. Angus Cloud è un attore che purtroppo è morto l'anno scorso, mi sembra, per droga. Ed era un attore molto promettente, a cui infatti è dedicato anche il film in questione. Quindi il cast è un cast giovane, di attori che sono sulla rampa di lancio, insomma, su cui Hollywood sta puntando, e sono abbastanza bravi. Il cast recita bene, perché in lingua originale comunque questo è l'effetto che fa. funziona, i dialoghi sono scritti bene, la storia è scritta bene, perché in realtà c'è un trucco. Cioè il trucco è, e cerco di non andare troppo oltre per non rovinarvelo, è che alla fine, e questo un po' l'avevo intuito, cioè un po' l'avevo intuito, un po' non pensavo. Quindi in realtà era una vocina che me lo diceva, ma ero più convinto che fosse tutto lì. Invece è proprio questo il bello. Il film non è tutto lì. Quello che vediamo nel trailer è lo strato sopra. Poi sotto c'è tutto da raccontare, c'è da raccontare tutta la storia dei personaggi, ed è divertente come è fatto, come interagiscono, e come alla fine insomma sarà una carneficina, quindi è ovvio che è un film horror e deve giocare su quello. Passando al discorso della carneficina, il film è bello, secondo me è un bel film, nel suo genere, quindi non è da paragonare a ereditaria o a cose di questo genere. È un horror di intrattenimento, con una grandissima componente ironica, quindi è quasi una horror comedy. È un film che io paragonerei quasi a Renfield, come tipologia di film, ed esattamente come Renfield, esagera potentemente, quindi avremo delle morti, c'è tanta roba, accadono tante cose, e quindi avremo delle morti sorprendenti, delle cose splatter, amputazioni, sangue, veramente a litri. Se è scritto bene, fa abbastanza ridere, intrattiene, e c'è tutta questa quantità di sangue, un amante dell'horror si diverte abbastanza. È girato abbastanza bene, l'unica cosa, io poi non vorrei sbagliarmi, ho notato un piccolo errore di montaggio, cioè piccolo, insomma a questi livelli, è un errore di montaggio un po' brutto, ma forse adesso, magari quando lo rivedrò, lo ricontrollerò, perché sono curioso, me lo ricordo perfettamente, dove mi sembra che un personaggio, praticamente, stia continuando a parlare, mentre ha la bocca chiusa. Quindi è un errore proprio un po' grave, però ecco, non potendo io mandare indietro e verificare per sicurezza, non vorrei che fosse stato un momento in cui la pellicola ha rallentato, però lo ricontrollerò poi quando uscirà in Blu-ray, però se fosse così sarebbe piuttosto grave. Detto ciò, c'è una scena molto bella, che ha a che fare col balletto, in cui si alternano due personaggi, non vi dico altro, che è una scena potente, divertente, bella, ma che è montata da schifo, cioè montata male, quindi è il mio sospetto che comunque quell'errore lì iniziale ci sia, viene anche dal fatto che quella scena lì è montata male, insomma, io l'ho vista i montaggi fatti bene, non è una scena inventata, è una scena che riprende qualcosa, e quindi, però insomma, in generale il film è tecnicamente fatto molto bene, soprattutto la fotografia, le scenografie, le messe in scena, è tutto molto bello, onestamente l'unica cosa che mi è piaciuta un po' meno appunto è il montaggio in alcune scene, per il resto funziona tutto alla grande. Questo è un film che è molto fanservice, secondo me, nei confronti degli amanti dell'horror e degli amanti anche della... insomma, c'è la barrera, capito? Cioè, è una roba devastante, non ti puoi annoiare, nel senso che io potrei guardare la barrera ferma, in una stanza per due ore, non mi annoierei, quindi in un certo senso sostiene molto la pellicola. C'è tantissimo sangue, c'è tantissima ironia, action, ci sono dei personaggi un po' caricaturali, un po' realistici, comunque scritti abbastanza bene, che sono divertenti, quindi il film alla fine funziona. Però ecco, attenzione, funziona se volete vedere un'amabile cazzata. ok? Non è un film horror che si prende seriamente, non c'è niente, nessun tipo di messaggio socio, politico, di nessun genere, è un film di vampiri che la butta sul ridere, anche un po' sull'assurdo, e che alla fine funziona, ragazzi, mi sento di dire che ho sbagliato totalmente la previsione con Abigail, mi sono probabilmente anche stata una scelta di marketing, quella di cercare di fregare in qualche maniera il pubblico e proporre qualcosa in realtà, ma non so. Alla fine il risultato è che così a prima vista l'ho giudicato troppo come una porcheria, invece non lo è per niente e per farvi un esempio lampante, cioè Megan è un film noiosissimo, senza humor, se loro pensano di averci messo dello humor si sbagliano di grosso, si prende molto su serio ed è noioso alla fine, perché poi non riesce neanche a essere splatter, perché non c'è sangue in Megan, non succede niente, è veramente un film che si è mozzato le ali da solo. Ecco, questo film è molto meglio per farvi un esempio, quindi insomma, mi sento di consigliarlo soprattutto a chi ama anche l'horror un po' stupidotto ma ben orchestrato, mi sento di consigliarlo a chi è super mega fan dell'horror perché è pieno di fanservice e questo fanservice comunque a seconda ciò che poi appunto lo spettatore dell'horror vuole, quindi c'è tanto sangue, tanto splatter. Fine? altro da dire no perché farei degli spoiler quindi preferisco rimanere qua su questo, su quello che vi ho detto. è un po' Grazie a tutti